Aumento della Tari, privati imprenditori scontenti, Varotti una situazione surreale Le farmacie comunali delle gruppo Aspersi nel campo per la lotta alla fibromialgia La città di Fano si tinge di rosa, 20 giorni di iniziative per l'arrivo del Giro d'Italia Basket per la Vuela Venezia gli ultimi 40 minuti per sperare nella salvezza Palla a volo dopo il ritiro, Tatiana Cosceleva resta alla Megabox con un ruolo in società Una buona serata telespettatore di Rossini TV e benvenuti a questa nuova edizione di Rossini News Telegiornale di oggi venerdì 3 maggio che apriamo parlando della Tari e degli aumenti che stanno riguardando la tassa sui rifiuti Un tema molto caldo in città che ha fatto andare su tutte le furie sia i cittadini privati che i vari imprenditori del territorio Su questo tema è intervenuto ai nostri microfoni il direttore di Confcommercio Marche Nord, Amerigo Varotti Che ha sentenziato così su questa situazione da lui detta a dir poco surreale Più che sconcerto direi proprio rabbia perché sapere che i sindaci della nostra provincia Quasi tutti i sindaci della nostra provincia hanno approvato il bilancio di Marche Multiservizi Con un utile di oltre 12 milioni di Euro e con la ripartizione degli utili tra i soci Mentre c'era stata anche la proposta da parte del Comune di Monterabate Di destinare circa 4 milioni di utili per la riduzione delle bollette per famiglie e imprese E che poi dopo tre giorni l'Assemblea dell'Ata dell'ambito territoriale della provincia Gli stessi sindaci e la provincia di Peso Lurbino hanno approvato il piano di investimenti e di aumenti tariffari Predisposti da Marche Multiservizi sulla base dell'aumento dei costi che Marche Multiservizi dice di avere Allora da una parte fa utili spaventosi dall'altra dice di avere l'aumento dei costi Nelle aziende normali se ci sono aumenti dei costi vanno a diminuire l'utile delle aziende Qui invece abbiamo utili in crescita e aumento delle tariffe e quindi le cose non vanno bene Per quanto riguarda l'aumento poi della Tari è veramente ridicolo Addirittura leggiamo che qualche Comune si dice soddisfatto che riuscirà a contenere l'aumento al 4% Invece che al 5,6% come proposto dall'Assemblea Qui bisogna ridurre le tariffe È scandaloso che Marche Multiservizi faccia utili spaventosi sulla pelle, sulle tasche dei cittadini e delle imprese Noi sono anni che ad esempio come Confcommercio chiediamo anche in tavoli sia a livello di Atta sia a livello di Marche Multiservizi Una riduzione delle tariffe dell'acqua ad esempio per il mondo della ristorazione e del turismo Che pagano l'acqua in una maniera che dire vergognosa è dire poco Però di fronte alle nostre richieste ci viene sempre detto che non ci sono le possibilità I costi aziendali Corriamo il rischio di dover ricaricare la riduzione che facciamo ai ristoratori, ai cittadini o ad altre imprese Il fatto sta che comunque qui non si taglia niente, si aumentano le tariffe e si aumentano gli utili C'è qualcosa che non va nella gestione politica Non nella gestione tecnica, ma nella gestione politica di Marche Multiservizi e dell'Atta E a meno di 48 ore dalle termine della giornata di festa del primo maggio, festa dei lavoratori I riscontri turistici confermano gradare al primo posto dei luoghi più visitati della nostra provincia Il Ministero della Cultura ha confermato il trend che va avanti i danni E che vede la rocca di gradare anche questa volta in cima alla lista con 1026 biglietti venduti per visitarla Al secondo posto c'è la Galleria Nazionale delle Marche a Palazzo Ducale di Urbino Che per la giornata del primo maggio ha avuto 989 visitatori paganti E le farmacie comunali di Pesaro e Gabicce del gruppo Aspes sono scese in campo questa mattina Per la lotta contro la fibromialgia Da oggi infatti è partita una importante iniziativa che prevede uno sconto su integratori e vitamine Prodotti non mutuabili Vediamo il servizio Siamo stati sollecitati dall'associazione Leali di Hauser Devo dire che io non conoscevo la fibromialgia Ma è una patologia che purtroppo colpisce tantissime persone, soprattutto donne E crea dei problemi fisici molto importanti Dei dolori che molto spesso diventano patologici E che così compromettono anche lo stile di vita di tantissime persone Siccome molti degli farmaci o integratori che vengono utilizzati per combattere questa malattia non sono mutuabili Abbiamo deciso di portare questi prodotti che sono quasi tutti con il marchio farmacie comunali.t di nostra produzione Con una scontistica del 20%, proprio per venire incontro a chi ha questo tipo di patologia Ma hai tanti che utilizzano integratori, vitamine particolari anche per tantissime altre malattie E quindi abbiamo deciso proprio come farmacie comunali di Pesero e di Gabicemare Per non così perdere la finalità con cui sono nate le farmacie comunali Che è quella di venire incontro alle esigenze del cittadino La socialità, insomma, essere inseriti nella socialità della città E in tutto quello che riguarda l'aiuto al cittadino Abbiamo appunto preso questo tipo di iniziativa con questa scontistica Sono oltre 20 prodotti a nostro marchio che mettiamo a disposizione della cittadinanza Degli utenti delle nostre farmacie A questi si aggiungono due integratori, anzi sono tre integratori che sono molto importanti Che utilizzano, generalmente vengono prescritti anche questi dai medici Che non sono a nostro marchio, su cui facciamo uno sconto del 10% Proprio come che qui, per venire incontro a quelle che sono le esigenze di una platea molto vasta Dei nostri clienti, dei nostri utenti Che purtroppo non vedono riscontro nel servizio sanitario nazionale in quanto farmaci non mutabili Per noi è un aiuto molto molto grande Per noi fibromialgiche intendo Bellissima questa iniziativa Sono molto emozionata perché sono giorni che ricevo ringraziamenti Sono giorni che dico che il merito non è mio Io ho fatto solamente da portavoce Il merito è di chi ha accolto questa possibilità Che ha deciso di darci questo grande aiuto Che ancora purtroppo non viene dalla nostra sanità L'integratore è di grande utilità Non c'è fibromialgico che non assume integratori Più integratori Quindi le farmacie comunali Luca Pieri che ha accolto la nostra preghiera Perché la nostra è veramente stata una preghiera In questo momento sono le uniche Loro sono stati gli unici che ci hanno dato veramente una mano concreta E dalle 4 alle 26 maggio La città di Fano si tinge di rosa In occasione della dodicesima tappa Delle Giro d'Italia 2024 La rete di Fano Outdoor Promossa dalle comune di Fano Che riunisce una vasta offerta di attività all'aria aperta Presenta Aspettando il Giro 20 giorni di iniziative che coniugano sport e turismo Un economio vincente per raccontare bellezze Patrimonio e tradizioni della città e dei territori circostanti La tappa numero 12 delle Giro d'Italia Lunga 183 km Passerà per San Costanzo Tre Ponti Rosciano Bellocchi Monte Giove Fino ad arrivare a Fano Alle Porto In Viale Gramsci Dove è previsto l'arrivo Giovedì 16 maggio Un vero e proprio abbraccio all'interritorio Che la città ha voluto ricambiare Con il ricco calendario di eventi Di un villaggio intitolato Alle Giro Installato alle Pincio di Fano Fulcro delle attività e punto di partenza Delle numerose uscite A piedi o in bici A cui poter partecipare Fano beneficerà di una vetrina mondiale Di un momento di grande spettacolo Grazie alle Giro d'Italia E presso la sede centrale di Riviera Banca A Rimini dalle 10 alle 12 maggio La quarta edizione di Startup Weekend Radunerà oltre 100 giovani studenti Per un fine settimana fatto di formazione Ed imprenditorialità Vediamo di che cosa si tratta Oggi nella sede di Riviera Banca di Rimini Per presentare un progetto Ormai è sempre più una tradizione Che vede coinvolti centinaia di studenti E soprattutto dei partner internazionali Da dove nasce la volontà di un'iniziativa così? Ma io credo che questo sia uno Uno dei valori importanti Direi più importanti Della nostra banca Quella del sostegno ai giovani Ecco, l'avvenimento di oggi Questa iniziativa è importante Perché ormai è entrata nel nostro calendario E si svolgerà sabato e domenica Saranno aperti i nostri uffici E quindi gli uffici bancari Quindi i ragazzi hanno la possibilità Di muoversi, di pensare Di organizzarsi in gruppi Per manifestare le loro idee La nostra è una banca Che è molto aperta ai giovani E molto Gli sostiene Dedica parecchio tempo E anche investimenti importanti Nelle borse di studio Nella crescita dei giovani Gli sostiene fin dalla nascita Alla prima elementare Alla seconda elementare Alla prima media Alle superiori E poi ci sono i premi giovani talenti Per delle borse di studio Per gli universitari Quindi è una delle attività A cui ci teniamo di più Insieme con la cura La prevenzione e cura della salute Che è un altro dei valori importanti Della vita insomma L'università partecipa a questo progetto Ci crede fermamente Sin dalla sua prima edizione Perché è un progetto Che valorizza i giovani Del nostro territorio In che modo li valorizza? Li valorizza in una modalità Che è estremamente innovativa Cioè i ragazzi stanno insieme Ad altri ragazzi Che spesso non conoscono Quindi le altre classi Delle scuole Della provincia di Rimini E sperimentano che Quello che studiano nei libri È molto utile Ma deve essere sempre unito A quelle che sono Le loro esperienze personali Di vita Nel tempo libero Nella musica Nel volontariato Tutte le loro esperienze di vita E insieme anche Quello che sono Quindi perché Startup Weekend Ha anticipato i tempi Perché noi oggi sappiamo Che orientare Vuol dire costruire mappe Mappe che aiutano i ragazzi A capire quali sono I bellissimi percorsi Che li aspettano Nel loro futuro Ma quelle mappe Sono fatte di tre dimensioni Lo ripeto perché È un valore Secondo me fondamentale Studiare Essere La propria esistenza E ciò che si è In quanto individui Un coinvolgimento molto attivo Sia di supporto Ma di collegamento Con le scuole superiori Con questi ragazzi Per stimolare Il loro spirito Imperatoriale Ovviamente Siamo qui come università Perché siamo interessati Che i ragazzi Si iscrivono Nel nostro campus Ma soprattutto Che arrivino Con quella voglia Di creare impresa Perché oggi Serve innovazione E all'interno Del campus di Rimini Ci vogliono ragazzi Che portino novità Perché l'università Non solo insegna Ma riceve anche energia Da questi ragazzi Questi elementi Quindi elementi Come questi Giornati come questi In collaborazione Con Riviera Banca E copunto Con le scuole circondarie Sono importantissimi Perché si crea Un legame Una sorta di Profilo continuato Di formazione Che permette Di accompagnare i ragazzi E aiutarli Nella loro crescita Startup Weekend Gli dà l'opportunità Di lavorare Su un foglio bianco E di provare A realizzare Quello che vogliono loro Vogliono realizzare Un'idea Vogliono migliorare La scuola Vogliono migliorare Quello che gli circonda E hanno l'opportunità Di farlo Quello che gli diciamo sempre È partite da un problema Uno non lamentatevi Partite da un problema Che vedete vicino a voi E provate a pensare Come migliorare Quel problema lì Poi è chiaro Che non possono fare Tutto da soli Per quello Abbiamo circa 20 mentor Che sono professionisti E imprenditori Che sono a fianco A loro A fianco a questi ragazzi Per tre giorni E li supportano E li aiutano Chiaramente Nelle cose più pratiche Come faccio a fare un logo Una presentazione Come faccio a pensare A un business plan Ci sono professionisti Che li aiutano Meglio Gli spiegano come funziona E poi sono i ragazzi Che decidono Se e come fare E domenica 5 maggio Il quartiere di Vismara Si colorerà Di tantissimi Giovanissimi ciclisti Maschi e femmine Di età compresa Tra i 6 e i 12 anni Impegnati a disputare Le prima memoria Le Guerino Radi Organizzato dall'ASD Pisarum Young Riders Con il sostegno Di Fiseradi Medical Center E dell'ABS Con il patrocino Del comune di Pesaro E della FederCiclismo Delle Marche Il ritrovo delle squadre Provenienti da tutto Il circondario marchigiano Romagnolo e Dumbo È previsto in via Lambo Presso Fiseradi Medical Center Alle ore 9 Mentre la partenza Della prima corsa Avverrà alle ore 10 Il circuito Lungo 850 metri Da ripetere più volte A seconda della categoria Sarà compreso Tra le vie Basento Via di partenza Via Chienti Via Lambo E via Bormida Con l'ordinanza comunale Nelle vie del percorso Sarà vigente Il divieto di sosta Con una rimozione Forzata dalle 7.30 Entra le 12.30 Della giornata di gara E l'istituto di istruzione Superiore Agrario Cecchi Organizza anche quest'anno Il Caprile Agri Show Una manifestazione Giunta ormai Alla sua ventesima edizione L'evento si svolgerà Nei giorni di venerdì 24 Sabato 25 Domenica 26 maggio 2024 Nella splendida cornice Di Villa Caprile Per l'occasione La villa aprirà Alle pubblico I propri giardini storici E saranno attivi Gli antichi scherzi d'acqua E le visite guidate Sono inoltre In programma Convegni di incontri culturali La visita alle mostre allestite E agli stand degli espositori Per le tre serate Sono previsti Spettacoli teatrali e musicali Concerti ed animazioni varie Oltre alla possibilità Di pranzare E cenare A Villa Caprile Ed è l'imbarcazione Telea dello skipper Paolo Terenzi La vincitrice della 38esima Pesaro Pola Un trionfo a sorpresa Quello dell'imbarcazione Portacolori Delle club nautico di Cattolica Che non aveva velleità Se non quella di migliorare I suoi tempi Rispetto alle scorse partecipazioni Ma la bonazza Che ha stoppato la corsa Delle prime Nelle canale D'ingresso a Pola Ha favorito La piccola stazza Delle Bavarie Romagnolo Che ha tagliato Il traguardo Alle 4.09 del mattino Delle 3 maggio Grande battaglia Però anche Per salire sulle podio La seconda Valentina 4 Gap 4 dello skipper Mauro Tinti È arrivata appena Due minuti dopo Mentre la terza Gap 4 dello skipper Ubaldo Santarelli Un minuto dopo ancora Poi alle 4.19 Ecco il Cicaboba 2 Di Giovanni Gasparin Della compagnia Della vela di Pesaro E subito a seguire La XB Di Roberto Garbuglia Delle porte di Civitanova E la Stardust Di Letterium Ar abito della Lega Navale di Ancona La barca vincitrice Dell'edizione dell'anno precedente Che si è dovuta però Accontentare Delle sesto posto E sarà una domenica Cruciale Per il basket Pesarese Con la VL Impegnati in casa Della Reier Venezia Per la rincorsa Alla salvezza Biancorossi Che in quest'ultima giornata Hanno l'obbligo Di vincere Ma che non sono Purtroppo padroni Delle proprie destino Visto che gli uomini Di Meosacchetti Dipenderanno Dal risultato Delle partite Di Treviso E di Varese Sentiamo le parole Che ha detto Quest'oggi In conferenza stampa Il coach Della Carpegna Prosciutto Meosacchetti Comunque Vade Il 5 maggio 2024 Sarà una data importante Nella storia cestistica Pesarese Quelli di Venezia Saranno infatti Gli ultimi 40 minuti Di gioco In cui la Carpegna Prosciutto Basket E Pesaro Si gioca La fetta più grande Della sua stagione Consapevole però Di non essere padrona Del proprio destino Alla VL Infatti una vittoria Prerogativa fondamentale Da ottenere In Laguna Potrebbe non bastare La formazione Allenata da coach Meosacchetti Dovrà per forza Di cose strizzare L'occhio Alle sfide di Treviso E Varese I Veneti Sono impegnati In casa contro Tortone A Pesaro Serve una vittoria Della formazione piemontese Per la permanenza In Serie A Non basta però Solamente la sconfitta Di Treviso Con la VL Che deve augurarsi Il successo esterno Di Varese Sull'ecampo di Pistoia Varese e Treviso Arrivano a quest'ultima giornata Con i due punti in più Rispetto alla VL Ma lo 0-2 Dei pesaresi Nello scontro diretto Contro i Lombardi Pesa come un maccigno E costingerebbe Pesaro Nelle case di arrivo A pari punti con entrambe A questo punto Noi dobbiamo andare a giocare Cercare di giocare La nostra miglior partita Sappiamo che non è una cosa facile Perché è fuori casa Con una squadra forte fisicamente Profonda Però è giusto che Noi lasciamo All'ultima partita Qualcosa di nostro Perché poi Può succedere di tutto Però dobbiamo pensare a noi Non pensare agli altri E poi finita la partita Vedremo quello che è successo Che tipo di squadra è Venezia E come si può provare a vincere In casa di Venezia Beh sicuramente È una squadra che fisicamente È molto forte Anche nei ruoli Di guardia Hanno sicuramente Dei centri importanti Logicamente Noi dovremmo cercare Di fare molto più canestro Non subire Fisicamente qualcosa Di troppo Perché tanto sappiamo Che avremo dei problemi Sotto canestro Però dovremmo lavorare meglio I rimbalzi Forse anche più che Coi piccolini Per cercare di portare via Qualcosa Per poter andare in contropiede I tifosi Voglio dire L'amore di Pesaro Come ho detto L'ho visto Da giocatore E adesso l'ho visto Da allenatore E continuate così Perché Si vede proprio Che ce l'avete nel sangue E continuiamo concludendo Parlando ancora di sport Questa volta parliamo Di pallavolo E siamo in casa Megabox Vallefoglia Perché poco dopo Aver annunciato Il suo ritiro Dalla pallavolo giocata La campionessa russa Tatiana Koscieleva Ha deciso di proseguire La sua esperienza Nelle volley Svolgendo un ruolo Nella società Bianco-verde Alla ex schiacciatrice È stato affidato Il ruolo Di supervisor Del settore giovanile Sono molto felice Sono molto felice Di questo nuovo ruolo E sono molto felice Di rimanere A far parte Di questa grande famiglia Della Megabox Ho pensato molto A questa opportunità Non è una decisione Per me di stop Di spiegare Vallefoglia Ho preparato myself Ho pensato molto Quando ho preso Questa decisione Quando ho smesso Di giocare Mi ho preso tempo E dopo ho pensato Che questa potesse essere Una grande opportunità Per me Per condividere Le mie esperienze E per insegnare Ai giovani Come diventare campioni Innamorata Totale Con Vallefoglia Con questa regione Con persone Che abitano qui È bellissimo Stare qui In questi anni Ho iniziato A conoscere tutti Ed è un posto Che riguarda La natura La cultura Ha una grande offerta Per me È bellissimo Essere qua E mi sono innamorata Di questo posto Voglio insegnare a tutti Che tutto è possibile Magari tutti Non diventeranno Campioni Ma in ogni caso È importante Come si sentiranno Dentro Si sentiranno Pronti E in ogni caso Il mio ruolo Sarà quello Di condividere La mia competenza Le mie esperienze Con i giovani Di questo territorio Questa è la mia famiglia Questa è la mia famiglia For cui Ho creduto 100% un comportamento davvero speciale e per me finire la carriera qui e cominciare una nuova attività qui è stato naturale. E allora in bocca al lupo a Tatiana Coscilevi in questa sua seconda carriera sportiva dopo quella grande da giocatrice, ora ha un ruolo importante nella società della Megabox Valle Foglie, era questa l'ultima notizia del nostro telegiornale. Prima però di lasciarvi le previsioni delle meteo, vi ricordo degli appuntamenti in onda questa sera su Rosini TV, a cominciare subito dopo questa edizione la prima del nostro Tg, avremo la natura della Cultura Magazine, il nostro contenitore d'approfondimento su Pesaro, capitale italiana della cultura, che vede tutti i lunedì, mercoledì e venerdì un nuovo argomento, questa sera alle ore 20, subito dopo l'edizione di questo telegiornale, ripotremo però vedere tutte le notizie della settimana nel weekend, sabato alle ore 12, alle ore 19, domenica alle ore 15 e alle 21. Questa sera invece la nostra prima serata alle 21.20, vede le nuove puntate della TV dei viaggi, questa sera scopriremo il territorio della Malesia, musica, tradizioni e la città del legato. E poi vi ricordo come di consueto l'appuntamento con la nostra rassegna stampa, buongiorno Rossini, domani mattina in diretta alle 7.20, in diretta anche sulla nostra app, sul nostro sito e sulla pagina Facebook, ci sarà Antonio Astuti a farci compagnia, vi ricordo anche le repliche, per chi non si sveglierà alle 7.20 e non ci vedrà in diretta, replica alle 8.20, 12.20, 14.20 e 18.20. Ed è davvero tutto con questa edizione di Rossini News, vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia e vi auguro una buona serata e un buon fine settimana.